Claudia Zuncheddu è una persona seria, impegnata su diversi fronti e penso che sia la persona che riesce a sussungere quest'anima ambientalista, indipendentista e progressista e finalmente è una persona al di sopra di tutti i movimenti, questa unione penso che sia la novità di questa campagna elettorale a Cagliari. Quale risultato sperate di portare a casa? Sicuramente buono, è quello che ci auguriamo, è un processo in atto, non sappiamo dove andare a finire.